Visita del Cardinale Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, alla struttura riabilitativa Quarto di Palo. La visita organizzata in occasione della conclusione delle celebrazioni per il settantesimo anniversario del pio transito del venerabile servo di Dio, Monsignor Di Donna. Ascoltiamo. Una figura attuale perché la sua vita è stata illuminata dalla fede in Dio e dalla carità. Un uomo divenuto vescovo e venerabile, che disegna con il suo esempio immagini di speranzoso futuro. E Monsignor Giuseppe Di Donna, venerabile servo di Dio, che per Andrea è una figura centrale di fede, come spiega il Cardinale Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi. È una figura, quella di Monsignor Di Donna, che deve essere sempre più scoperta nelle sue due dimensioni, la dimensione della spiritualità e, tra l'altro, la dimensione della carità. Sono due dimensioni che si richiamano reciprocamente, vanno sempre all'altro. Così, d'altra parte, non può esserci carità verso Dio, amore verso Dio, senza carità e amore verso il prossimo. L'esempio di Monsignor Di Donna resta attuale e ancora vivo per chi ha il cuore che guarda a Dio. A volte noi dividiamo, sembra quasi che se ci dedichiamo a Dio non possiamo dedicarci al prossimo e viceversa. Invece, nell'unità della persona, questo si può realizzare. Un vescovo di Donna è stato un esempio. Per il Cardinale, la visita al Presidio Riabilitativo Quarto di Palo, l'incontro con i ragazzi e con i sacerdoti della Diocesi di Andrea Canosa e Minervino per pregare e meditare anche sulla figura di Monsignor Di Donna e sul suo processo di canonizzazione. Questa benificazione dipende non dalla congregazione, ma dipende dall'invocazione e da qualche evento miracoloso che provi, che il giudizio della Chiesa è esatto e corretto.